Le parole segnano, le parole ci modificano, le parole determinano le nostre visioni perché ci fanno entrare in un certo modo di guardare la realtà. Sia le parole che ascoltiamo, sia le parole che diciamo. Il caffè è più buono se ristretto. Forte sì, ma non troppo lungo. Se vuoi prenderti il tempo per gustarti una brioche, molto meglio il cappuccino. Sempre forte, ma pacato. Un cappuccino con Paolo, quando il tempo di un caffè non basta più. Sempre con Paolo Pugni. Davvero bello, davvero bello. Questo libro di Giovanni Benvenuto, Don Giovanni Benvenuto, autopubblicato, 120 giorni per mettere le ali. Lo trovate su Amazon. Veramente bello. Sono 120 mail che sono state mandate da Don Giovanni in epoca lockdown. Ogni giorno una mail per migliorare la nostra capacità di entrare in contatto con gli altri, di comunicare. C'è una parte che è quella che sto seguendo in questo momento in particolare che riguarda l'uso delle parole, le parole che abiti, le parole che sono nostre. E poi c'è una parte dedicata alla rabbia che sarà oggetto del prossimo cappuccino. Di settimana prossima faccio un'anticipazione. Le parole hanno il potere di distruggere, il potere di creare. Le parole possono essere muri o finestre, secondo quanto racconta anche Marshall Rosenberg nel suo libro sulla comunicazione non violenta. Le parole hanno un grande potere su di noi. Hanno un grande potere sui nostri interlocutori. Formano la nostra realtà. Tant'è che il fatto di avere poche parole a disposizione è una tragedia. È una tragedia perché ci impedisce di pensare, ma soprattutto ci impedisce di avere una rappresentazione positiva del mondo. La realtà è vista attraverso una mappa, come spiega appunto la programmazione neurolinguistica, che fa dell'uso della parola in modo, ahimè talvolta anche manipolatorio e strumentale, un'occasione molto forte per plasmare la nostra realtà, per farci vedere le cose in maniera diversa. Semplicemente considerare un acquisto come un costo o un investimento cambia la parola, ma cambia il mondo, cambia la prospettiva. Robert Cialdini in un famoso esperimento riportato nel suo libro L'arte, le armi della persuasione, chiedo scusa, Robert Cialdini, le armi della persuasione, racconta questo episodio, questo studio, fatto alcuni anni prima della pubblicazione del suo libro, in cui le parole hanno un grande significato. Una coda a una macchina fotocopiatrice, stiamo parlando degli anni 50, se non vado errato a questo studio, quindi qualcosa di significativo è fare la coda a una macchina fotocopiatrice, dove una persona riesce a scalare diverse posizioni nella fila, perché motiva, innanzitutto, devo fare delle fotocopie perché ho fretta, perché mi aspetta il professore, perché sono in ritardo, ma dove l'aspetto di motivazione è talmente forte che basta dire perché devo fare una fotocopia per cui viene presa come motivazione e aggiunge per favore, quindi la potenza di queste parole. Le parole ci fanno cambiare prospettiva. Se io dovessi dire non riesco a concentrarmi perché mi strilli nelle orecchie, darei un messaggio molto forte. Se io dicessi non riesco a concentrarmi perché mi parli molto vicino, parlate a me molto vicino, è un'altra cosa. Io con le parole condanno, con le parole accuso, con le parole cerco di essere oggettivo. La stessa frase detta con parole diverse cambia totalmente di significato. Anche qui un famoso episodio, un test svolto anni fa ai tempi della Guerra del Golfo per capire come la parola potesse manipolare. Stesso tipo di test, stesso tipo di popolazione, risultati molto diversi. Volete che il nostro esercito scenda in guerra? Un tipo di risultato. Volete che i nostri ragazzi scendano in guerra? Altro tipo di risultato. Volete che i nostri figli scendano in guerra? Risultato completamente diverso. Lo stesso tipo di affermazione, in fin dei conti, stiamo parlando di un esercito che deve andare a combattere, ma descrivere i soldati come esercito, descriverli come ragazzi, descriverli come figli, cambia la percezione che abbiamo della realtà. La lingua manipolatoria, per esempio i famosi libri di Giorgio Oliverani sull'antilingua, stiamo parlando degli anni 90, in cui veniva spiegato come l'introduzione di termini volutamente dissacratori. No, dovrei trovare una parola migliore, perché stiamo parlando di parole corrette, devo trovare la parola corretta. Termini, sì, posso usare termini manipolatori, si può affermare la stessa cosa guardandola ad angoli diversi, un po' come dire che il bicchiere è mezzo pieno, mezzo vuoto. Anche questo è un modo per descrivere la medesima realtà con parole differenti. Ecco, ci sono questi bei libri sull'antilingua di Pier Giorgio Oliverani che ci spiegano proprio come la manipolazione avviene attraverso le parole. Le parole possono essere tossiche, le parole possono essere tossiche tra di noi, possono arrivare a rompere relazioni, a distruggere relazioni proprio perché le usiamo in maniera impropria, le usiamo, spero, in maniera impropria, cioè nel senso che non le usiamo in maniera consapevole, non ci rendiamo conto di quello che vogliamo fare. In realtà, quando le usiamo in maniera propria è perché vogliamo fare male. Qui vado a citare un altro grande filosofo, Jean Guiton, che nel libro sull'amore, Splendido, un saggio di tanti anni fa, diceva che più conosciamo una persona, più sappiamo scegliere un insulto che faccia male. Ecco perché a volte certi insulti che vengono descritti come razzismo, come sessismo, in realtà non appartengono a questa categoria perché non hanno quell'implicazione, non sto dicendo tutti, sto dicendo alcuni, ma hanno l'implicazione di voler far male. Siccome non ti conosco, vado sulla cosa che è più immediata, più semplice, che ti possa far male, nel momento dell'insulto. Ma dicevo, sulla rabbia, torneremo in un'altra occasione. Qui, a pagina 121 del suo libro, Don Giovanni racconta due episodi, due modi per raccontare lo stesso episodio. E credo che posso leggerli per specificare bene quello che voglio dire. La scelta dei termini è devastante, distruttiva, è il lato oscuro dell'amicizia. La stessa cosa, lo stesso significato, e c'è qualcosa che non va, diamoci da fare, può essere detta così. Credo che l'entusiasmo che avevamo all'inizio di questa avventura possa rinascere e unirci ancora di più. Se avremo fiducia e ognuno di noi collaborerà con gli altri tirando fuori il meglio di sé, sono certo che sapremo superare il momento difficile che stiamo vivendo e sono sicuro che insieme ritroveremo quell'unità che ci ha sempre fatto star bene, riempiendoci il cuore e illuminando le nostre vite. Che parole scegliamo? Parole tossiche o parole rassicuranti? Scegliamo di rappresentare una realtà che ha una speranza o una realtà che è soltanto macerie? Buon cappuccino a tutti! Un cappuccino con Paolo va in onda grazie a Podbits, il team che ti aiuta a tradurre le tue idee in podcast e la tua voce in libri. Trovi tutti i caffè e i cappuccini con Paolo sul canale Telegram telegram.me slash caffè con Paolo senza l'articolo mi raccomando caffè con Paolo sempre su Telegram puoi contattarmi telegram.me slash paolo pugni grazie e alla prossima puntata! Grazie a tutti!